Qual è la cosa che le piaceva di più del lavoro di ciabattino? La cosa che le dava più soddisfazione? Ma quello di fare le cose belle, di rimettere a nuovo le scarpe vecchie, quella era la soddisfazione, cioè la scarpa vecchia e tu la rimetti in ordine e ritorna bella, nuova, e quella è il motivo di soddisfazione. Quello è molto importante. Quando tu ami il proprio lavoro, quello è bello, che tu fai una cosa che ti piace. E allora tutto ti riesce bene.